E' stato organizzato per domenica 2 aprile al Circolo Arci Fornace Mancini di Cattabrighe un pranzo di beneficenza per contribuire al sogno di Alessandro Moneti, quello di acquistare un trattore adattato alla sua disabilità per tornare a lavorare come agricoltore. Quello della famiglia Moneti è un caso che ha toccato il cuore dei pesaresi ancor più di fronte alle difficoltà economiche di una famiglia attesa la prossima settimana da un controverso sgombro dalla loro residenza di via Persoria. Abbiamo deciso di fare questo pranzo di beneficenza per contribuire al sogno di Alessandro. Alessandro voleva comprare un trattore adatto a lui per poter lavorare nell'azienda agricola del suo nonno e quindi vorremmo contribuire a questo sogno. Sarà sicuramente una goccia nell'oceano ma intanto iniziamo. Inoltre come già tutti sappiamo la famiglia di Alessandro sta passando un periodo un po' in salita e quindi essendo anche noi genitori è una motivazione in più per dargli una mano e se qualcuno vuole contribuire a questa iniziativa troverete i numeri per poterci contattare nella locandina. Una piccola goccia dunque in mezzo ad un immenso oceano di difficoltà soprattutto in questa ultima settimana. Siamo infatti sempre più vicino allo sfratto definitivo dall'abitazione di Soria già rimandato per ben due volte ma che sembra arrivato alla fase finale.